Il tempo che invece servirebbe a seguire i clienti... Ragazzi è uno spettacolo, spero che stiate arrivando, spero che stiate in macchina, in pullman, in moto, in bicicletta, c'è già un mondo, c'è un tempo stupendo. C'è una marea di gente, nuovi sindaci, ieri notte ragazzi che ballavano e si divertivano in maniera sana insieme dalla Lombardia, dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Puglia, dall'Emilia, dalla Toscana e dalla Calabria. Bello, adesso però al di là della mia faccia vi portiamo sul prato a toccare con mano la gente che c'è, se siete a casa perché non state bene, perché lavorate, perché siete in ufficio, perché avete i figli in vacanza, perché state studiando per l'esame. Ecco, oggi seguite questa pagina perché vi regaliamo emozioni che le altre televisioni difficilmente vi regaleranno. Adesso andiamo a fare un giro in mezzo alla gente, quei populisti, sovranisti, fascisti, egoisti, razzisti che sono invece padri e madri famiglia normalissimi. Andiamo? No, 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 no Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.